Sesta festa USB, noi non dimentichiamo! Sabato 12 e domenica 13 settembre 2020, ore 19.30, Parco Batteria Cattaneo Gandoli Taranto. Dibattiti e momenti di spettacolo e di intrattenimento. Ecco il programma completo degli eventi. Sabato 12 settembre, a partire dalle ore 19.30, dibattito, internalizzazione dei servizi ASI. Partecipano Vito Santoro, amministratore unico Sanita Service Taranto. Gianni Palazzo, WSB Sanità. Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia. Saluti del sindaco di Leporano, Vincenzo Damiano. Premiazione, eccellenze dello sport, con il fuggile Luigi Merico. Premia, Francesco Rucoli, sindaco di Bursano. Intervento dell'associazione Giustizia per Taranto. A seguire, musica e spettacolo, con Gabriella Martinelli, cantante e polistrumentista. Il cabaret, con Pino Campagna da Zelig. Domenica 13 settembre, a partire dalle ore 19.30, dibattito. Cantiere Taranto. Partecipano il senatore Mario Turco, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, e Francesco Rizzo, coordinatore provinciale USB Taranto. A seguire, spettacolo e intrattenimento, con Matranga e Minafo, Afrodite Super Gianto, Supernova Duo Acustico, Motiva.